Se non si ribella perfettamente non si apre Quindi arrivi al piano e devi aspettare 20 minuti perché si ribelli E lui è sceso... Si lo so, ciò che lo fa tutto a scensura Lui ha abbastanza paura degli ascensori È sceso a piano terra, è uscito dalla casa, mi ha citofonato Grazie per la visione 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 Grazie per la visione